E' di Giuseppe Pedrazzini, 77 anni, il corpo trovato ieri in un pozzo a Toano, Reggio Emilia. I carabinieri con l'aiuto dei vigili del fuoco hanno recuperato il cadavere all'interno del pozzo, nelle vicinanze dell'abitazione dove lo scomparso viveva con la famiglia. Concluse le ricerche, i militari hanno fermato la moglie, Marta, la figlia Silvia e il genero Riccardo. Secondo le ultime notizie su di loro vi sarebbero gravi indizi di colpevolezza.